Siete curiosi di scoprire ulteriori novità? E rimanete con me perché oggi entriamo a vedere lo sneak peek numero 4 Alcuni giorni fa avevamo annunciato l'arrivo del TH16 su Clash of Clans E con esso avevamo mostrato le due nuove difese e soprattutto avevamo dato il benvenuto al nuovo famiglio La Volpe degli Spiriti Ma gli aggiornamenti non finiscono qua Signori benvenuti sul mio canale di Clash of Clans Io sono GIGINO478 E oggi andremo a vedere lo sneak peek numero 4 Questo nuovo sneak peek ci apre la strada ad una nuova truppa Perché come avevamo annunciato nel primo sneak peek C'era stato l'aumento di livello per le caserme dal livello 15 al livello 16 Ma non avevamo annunciato che cosa si poteva sbloccare con il livello 16 Ebbene si ragazzi oggi andiamo a dare il benvenuto a una nuova truppa su Clash of Clans Vi presentiamo la Guardiana delle Selve Questa nuova truppa a bersaglio singolo ha come obiettivo le difese Ma la vera chicca di questa truppa è che per arrivare alle difese Spacca anche pezzettini di mura per arrivare ad esse E della serie chi va piano va sano e va lontano Con una velocità di movimento pari a 12 e ben 7200 punti ferita Andiamo a vedere l'azione questa nuova truppa Questa nuova truppa aprirà la mente a noi Clasher per nuove sensazionali combo All'interno di Clash of Clans Infatti avendo come obiettivo primario le difese Riesce a spaccare anche le mura per arrivare ad esse E quindi sicuramente sicuramente Avremo l'opportunità di creare in accoppiata con il nuovo famiglio Delle nuove combo che porteranno davvero grande soddisfazione a noi Clasher Con l'arrivo del TH16 e il nuovo aggiornamento Avremo uno stile di gioco molto diverso E sono curioso di vedere il mondo competitive Come si evolverà attorno a questi nuovi upgrade Signori questo era lo sneak peek numero 4 Ma rimanete connessi con me Perché le novità non finiscono qua Domani arriverà un altro sneak peek E con esso ancora tanta roba Ma se vuoi sapere in tempo reale Tutto quello che c'è da sapere su Clash of Clans Ti basterà iscriverti al canale Attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video Se questo video ti è piaciuto Lascia un like e soprattutto nei commenti Fammi sapere che ne pensi di questa nuova truppa Signori da G5478 è tutto Ci vediamo ad un altro fantastico video Ciao Belli E poi Ciao 3 Un aboncie